Buongiorno, sono Dino Roman, docente di elettronica di questo istituto del Dipartimento Elettrico Elettronico. I nostri corsi nel settore elettrico elettronico riguardano tre grandi macro aree. Ci occupiamo di impianti civili industriali fino alla domotica, ci occupiamo di dispositivi programmabili quindi di tutta l'elettronica di base per arrivare alla programmazione di Arduino e del Cobot, che vedete qui alla mia sinistra, e il terzo settore realizzare reti per computer in rame e in fibra ottica con la videofonia. Quali sono le possibilità per il doposcuola, per il finito esame di Stato? I ragazzi possono entrare in azienda a diversi livelli dal punto di vista tecnico e per nostra fortuna sono richiestissimi dal mercato. Chi ha ovviamente buona volontà può proseguire gli studi verso gli ITS o verso i percorsi universitari in base a quelle che sono le proprie attitudini e le proprie scelte personali.